Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FabiJ Ed oggi siamo sul quarto e fottutamente ultimo capitolo di Trollface Quest Quindi su Trollface Quest 4 e questo tizio mi sta irritando Comunque ragazzi direi di iniziare e vediamo di finire anche questa così ci siamo E... aveva detto che questo tizio mi stava sul culo già da prima E' una cosa pazzesca Mi ha spento la torcia, guarda che bastardo di merda Mi ha spento la torcia, l'urito vieni qui Tanto ragazzi guarda che bella faccia c'ha sto tizio Un'espressione di gioia pazzesca E... non ho capito che cazzo devo fare Ci sono sti cosi qui Cioè io devo accendere il calderone come cazzo faccio E' una cosa... beh già ci siamo incasinati Siamo appena partiti Non è neanche Che buco di culo Ragazzi mi ero dimenticato che in sto gioco praticamente per andare avanti Devi beccare cose che non c'entrano in poche parole Vai così, perfetto Che mira di merda Dobbiamo beccare... allora zia devi... guarda bene Guarda bene qui Lo vedi? Lo vedi dove c'è la mia faccia? Spara! Cioè se io... se io premo il fucile spara così Se io... se io premo la cosa spara... E allora che cazzo mi cambia? Non ho capito il senso Cioè io ti... a meno che non si deva come negli altri avvicinare... No non si avvicinare... no non si avvicinare... cioè negli altri si avvicinare... A meno che... Sì! Sì! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Ci avrei scommesso... Adesso lo prendi! Minchia se non lo prendevi di qua... Ti tira una testata Devo riuscire... bello così... Bellissimo! Perfetto! Questo... Ah lì è il fail... Pensavo di aver vinto Ma poi perché sto combattendo contro un cazzo di pupazzo di neve? Non ha senso! Come la fa a tenere la spada? Non c'ha le mani! Cioè non posso saltare io! Non posso saltare io! Perfetto! Ah era il sole che ha sciolto il pupazzo di neve! Voglio morire adesso! Chi è sto tizio? Quanto sei bello! Tu che mi rubi la merenda la mattina devo prenderti a cazzotti? E allora assaggio questo! Pezzo di merda! Ma sto tizio mi inquieta un casino! Devo... Non è nessuno... No non è nessuno nel pubblico! Allora che cazzo devo fare? Cioè io devo... Che cazzo fa? Io ho un consiglio! Ma ci vai mai dal dentista? Ma che cazzo... Io non vedo l'ora di finire trollface quest ragazzi! È una serie di videogiochi che mi ha accompagnato per talmente tanto tempo che vi giuro... Chi cazzo è quel tizio? Ragazzi non ha senso... Ferma! Ferma! Su cazzo ho fermato! Ma che cazzo ti ridi? Ma perché io sembro Leonardo DiCaprio? Vabbè ragazzi non ha senso! Comunque io ti continuo a trivellare qui! E se tu non rompermi i coglioni che ti fico una testata! Allora vediamo... Che cazzo fa? Fermati stron... Ma che cazzo è andato? Regà! Ho vinto! Ho vinto! Non so neanche... Non so cosa ho fatto... Non me lo chiedete? Non ne ho idea! Ragazzi non ho capito nulla ma non importa... Vai così! Col salto sugli sci! Lo prendo al volo regà! Al volo! Al volo! Ma vaffanculo! Non lo devo prendere! Come devo fare? Spiegate... Fermati stronzo! Fermo! Ma come faccio? Allora fermi... Fermo! Ok! E qui ci sta una musica epica! Ops! Mi dispiace! Tanana! Nanananananana! Sì! Non ci credo! Mica me lo stavo immaginando ed è successo! Ragazzi assur... Mica... Non ci posso... Vi giuro che non ho guardato nulla! Vi giuro! È una cosa pazzesca raga! Non ci posso cred... Cosa fa? Cosa fa? Sì esattamente... Sì! Io 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 io... Ma così sono capace anche io a vincere l'Olimpiadi! Vado io porca troia! Ragazzi non ho capito il senso ma non importa! Perfetto! Il tiro... Mamma mia che... Tu sei un campione olimpionico! Sei un campione e un CD! Cosa c'è? Gigi l'Alessio sopra? Perfetto! Ah sì! L'ho staccato! Vai così! No l'altra parte lo vedete? Cosa devo fare qui? Clicchiamo... C'è il CD di Gigi l'Alessio almeno ascoltatelo! Devo tirare... Cosa fa? Sì! Ho vinto tirare... Perfetto! Ragazzi da domani voglio vedervi tutti alle finestre che lanciate i CD perché funziona così! Potete vincere le medaglie! Io ve lo dico! È una cosa... Cos'è questo? Perché si muove sto pacco? Cosa c'ha di strano? Vabbè ho mangiato qualcosa! E sono morto! Fantastico! È una... Ah perfetto! La bancarella del doping ha vinto tutto! È una cosa... C'è qualcosa tra l'altro qui! È un'altra pastiglia! È normale che mi è cresciuto un naso da Pinocchio! Adesso... Adesso posso prendere anche questa! O muoio? No muoio lo stesso! La morale è che non c'è bisogno di essere Pinocchio o non esserlo! Perché tanto se ti dopi perdi! Fatemi capire che cazzo devo fare qui! Allora c'ho... Allora il naso... Il naso lo prendo! Perché quello mi serve! E poi non ho capito... Questo non lo posso... Ma quante cazzo... No fermi fermi! Non trovate altre! Non trovate altre! Quante sono! Che cazzo! Mi sono cresciute le ali! Mi sono cresciute le orecchie! Mi è cresciuto il penno! Mi è cresciuto... Mi è cresciuto lì dietro! Le corna! È l'ultimo! L'ultimo è per il pene! Sicuro! No è la coda! Spero sia una coda! C'è un altro! Quante cazzo ce ne sono che non ho capito? Ah le tette! Le tette! Ragazzi! Questo... Ditemi che non è l'uomo più seducente che abbiate mai visto! E tra l'altro... Perché c'è? Posso cliccare il naso? Ah no me ne vado! Posso andarmene così! Perfetto! Ho creato un mostro! Domani lo vedrete nelle vetrine dei migliori negozi di alta moda sicuro! Perché è veramente sexy! Ah perfetto! Ah se io clicco il pubblico... Perfetto! Il coro! Il coro su comando! Cosa ne pensate di Fomij? Gellato la vaniglia per tutti! E poi ve lo pigliate nel capra anzi! Ragazzi ormai sono condizionati a tutto! Non c'è bisogno! Ora che c'hai la carica puoi andare! Vai zio! Dovresti aggrapparti su qualcosa! Non prenderlo a testate! Maledizione! Devo fermi che c'è... Sì! Sì! Cos'è sto coso? Mi sono allungato le gambe mettendomi una presa nel culo! Adesso ce la fai! Sì! Perfetto! Minchia abbiamo creato Superman! Fantastico! È la cosa che... Madonna quanto sei muscoloso! Dai che ce la fai! Dai che ce la fai! Sì! Grandissimo! Ah no! Ho perso! Minchia perché si tuffava meglio di me comunque! Devo cliccare qualcosa che non sto vedendo! Cosa cazzo devo cliccare? Fermi! C'è l'occhio! L'occhio! No! La finestra! La finestra! Aiuto! C'è qualcun... Madonna! Ma che testa c'ha sto tizio? Le tette! Le tette! Non sono le tette la soluzione! Minchia mi sta venendo l'ernia! No non è neanche il tuo perfetto! Io pensavo che dovessi cliccare tante volte il pubblico ma non è così! Che cazzo devo fare qui? Ah ma mentre applaudono mentre applaudono mentre applaudono mentre applaudono! Minchia ragazzi mentre... Allora se non applaudi la gente non ci riusciva... Grande così! Doveva applaudire la gente se no non ci riusciva! Perfetto! Allora vediamo se stavolta mi becchi! Io sono sempre qui! Ok! Niente niente ragazzi! Niente niente! Impossibile! Oh donna quanto sei bello zio! È una... Sì lo penso anch'io! Chi ride è coglione! Cazzo! Sono io questo! C'ho le cuffie! Ah bello! Mi hanno rappresentato anche sul troll face quest! Un cazzo proprio! Devo... Cosa devo fare? Allora c'è il contatore! Ditemi che è una presa per il culo! Ragazzi io non ho fottutamente parole! Non ho fottuto... Cosa fa? Ha cambiato finish in limbo! Cosa fa? Cosa succede? Ho level face! Cazzo perché questo c'ha gli occhiali da sole? Non ha senso! Perché io mi cervello mezz'ora e poi sono queste le soluzioni? Maledizione! Perché? Cosa fai? Ma che cazzo fa? Maledizio! Ma cosa fai? Stai fermo un attimo! Cosa perché devi tirare testate a sto coso? Datemi una mano regà! Che cazzo devo fare? Clicchiamo in mezzo! Qua no non clicca! C'è una stella! C'è una stella! L'ho vista! L'ho vista! L'ho vista! Lo sapevo! Lo sapevo! Cazzo è sto tizio? Regà! Una capra! Ha trasformato l'attrezzo in una capra! Fantastico! È una... Adesso posso... Perfetto! Perfetto! Ragazzi! L'olimpiadi più serie che io abbia mai visto in tutta la mia vita! E attenzione signore e signori! Brock Lesnar! Andremo a sollevare un peso di altrettante due milioni di chili? Con i suoi braccioni muscolosi! No! Effettivamente no! Sembra che ti stai sforzando per fare la cacca in una maniera mai vista! Ragazzi sto tizio mangia troppa vita snella! Che cazzo devo fare qui? Devo prenderla a testate! Devo spingerlo giù! Sei gonfiato! E adesso... Adesso sì! Adesso sì! Che bel calamar... Ragazzi Octodead! Ragazzi dov'è? Allora c'abbiamo un delfino! Un pesce sega! E poi c'è... E poi c'è sto tizio bellissimo! Che affonda! Fantastico! E devo... Ah no! Non devo farlo affondare! Chi è sto tizio col berretto? Che cazzo devo fare? Regà devo... Allora fammi capire! Una affondata! Poi c'è anche questa! Perfetto! L'ultima! Sì! E adesso ce la dovremmo fare! A meno che non debba fare qualcosa con questi! No vero? Ok? Sì! Grandissimo! E che cazzo servivano sti pesci? Non facciamoci domande! Chi se ne frega? Tanto basta che andiamo avanti! Cos'è questo? Scende! Scende veloce! Vai così! Verso l'infinito! E porca troia! Che botta! Ragazzi ho dato una facciata incredibile! Forse non dovevo andare così veloce! Oh sì! Cosa devo fare? No! Ok! Sì! Finish! Finish! È apparso finish! Non so come è apparso finish! Perfetto! Ragazzi siamo al diciottesimo! Ne mancano due! Non ci posso credere! Cosa clicco? Cosa clicco? Che cazzo ridi? Devo cliccare in un... Sì! No! Sì! Cosa ho fatto? Siamo tutti i secondi! Devo buttare... Come faccio? Vai vai su! Vai su! Stai per vincere! Hai vinto! Ragazzi ce l'abbiamo fatta! Non ci posso credere! 19! Ne mancano due! Sì manca questo e un altro! Dai ce la possiamo fare! È svenuto! Lo so che sei stanco! Lo so che vorresti fare altro! Ma ti prego arriviamo alla fine! Non mi svenire così! Vorrei capire più che altro! Ma chi cazzo vi ha iscritti alla maratona? Se non avevate un cazzo di voglia di correre! Non ha senso! Cosa ho preso? Ho preso un albero nel fuoco! Nel fuoco! Sì! Senti te! Non è il suo compleanno! Però se vinci ti regalo una torta! Ti prego! Vai a fanculo! Fai qualcosa! Muoviti! Allora trini la torta! Sì! Bisognava bruciargli le chiappe! Mi sembra giusto! L'ultimo livello! Ragazzi l'ultimo livello! Sei bellissimo! La tua piuma mi piace! Sì cazzo! Ci ho messo dei secoli ma ce l'ho fatta! Ehm... Allora prima ho vinto tutte le coppe primo del mondo! Che pazzesco! E alla fine diventai un ubriaco su una poltrona! Fantastico! Abbiamo vinto Trofez Quest 4 in una maniera... Cioè l'ultimo livello io non l'ho... Ho cliccato la prima cosa a caso! E cioè non so con che culo possa ricapitarmi una cosa del genere! Comunque una volta che si conosce più o meno la... Com'è fatto Trofez Quest alla fine i... Cioè le cose diventano abbastanza semplici! Comunque ragazzi a meno che non facciano 5! Io per ora la saga di Trofez Quest l'ho finita! Grazie a Dio! E quindi ragazzi fatemi sapere se quando uscirà 5 volete che faccia anche quello! Comunque ragazzi direi che posso concludere qui come al solito! Se il video vi è piaciuto lasciate un commento mi piace! Anche la pagina di Facebook e come in ogni video trovate nella descrizione! Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e non ci vediamo nel prossimo video! Bella ragazzi!